Ciao a tutti, vediamo in questo video uomini di cui è pericoloso innamorarsi. Prima di affrontare il tema, però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E ti ricordo ancora gli appuntamenti di Milano, domenica 1 marzo 9.30.19, Full Immersion, Autostima e Seduzione, Innamore e Lavoro. Poi l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo, Raviente 45, Elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti, riferimento 333.15.11.703. Ti ricordo che puoi abbonati al canale Massimo Termasco, andando sulla home page del canale, a fianco al tastino iscriviti, vai con il computer, trovi il tastino abbonati e scegli il tuo livello di abbonamento per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. Inoltre, puoi abbonati al canale Felicità Benessere per avere visibilità durante le live con una quota veramente simbolica. Bene, veniamo al tema, uomini di cui è pericoloso innamorarsi. Bisogna ovviamente capire chi è davanti perché è veramente importante riuscire, evitare di innamorarsi di queste tipologie di uomini. Chi sono, diciamo così, gli uomini di cui, gli uomini da evitare? Perché è importante riconoscere anche i più piccoli segnali che possono farci capire, che può far capire una donna, diciamo così, che tipo di uomo hai davanti. C'è un uomo da frequentare o uno da cui scappare? È importante per una donna, io lo suggerisco sempre, inquadrare l'uomo e cercare di capire che tipo è davanti all'inizio di una conoscenza. Perché i segnali ci sono già tutti all'inizio di una conoscenza, i segnali sono già tutti lì, pronti. Però spesso non li vediamo, spesso non ce ne rendiamo conto. Inquadrare, diciamo così, la persona è fondamentale perché in alcuni casi è meglio darsela a gambe, ma questo puoi farlo se lo riconosci in tempo. Quindi, perché se tu non lo riconosci in tempo, poi diventa tutto più complicato, tutto più difficile. Allora, al primo posto ovviamente troviamo il narcisista. Ci sono tutti i video che ho fatto sul narcisista, eccetera, tutti i modi per capirlo. Però proprio di prima chito tende o a parlare molto di sé, ascoltare poco gli altri, oppure viceversa a eleggerti come divinità, questo è il narcisista covert, e presentarsi come vittima fondamentalmente. Ecco, quindi quelli che parlano solo di loro o quelli che si propongono come vittime, devi subito toglierteli dai piedi perché il 90% si tratta di narcisisti, che devi toglierti dai piedi, ti li devi togliere dai piedi, non so se hai capito, perché altrimenti rischi di finire infoniata. Poi il manipolatore, il manipolatore è quello che utilizza il ricatto, il narcisista è anche manipolatore, poi ci sono manipolatori non narcisisti che però sono sempre pronti velatamente, diciamo così, a fare delle pressioni, a cercare di portare sempre l'acqua al proprio mulino. Talvolta se sono pronti anche a dire se non fai questo ti lascio, cerco di far vivere l'abbandono. Allora, siccome l'amore è prendersi cura, desiderare la felicità dell'altra persona, chi si comporta in questo modo e cerca di manipolarti, devi toglierti dai piedi e molto rapidamente, e molto rapidamente, perché altrimenti... Poi, un altro tipo di uomo è che devi toglierteli del geloso, e il geloso, le persone che sono gelose ti vogliono controllare, e dove vai, e cosa fai, perché sei riuscito con questo, perché sei riuscito con quello, ma perché vai in quella palestra, perché ti vai a vestire in questo modo... Allora, questi sono tutti campanelli d'allarme che appena scattano, devi mandarla a stendere, devi allontanarti, questo è fondamentale anche. I gelosi vanno tolti dai piedi. E poi anche un'altra tipologia, diciamo così, che deve essere eliminata da un certo punto di vista è le persone irresponsabili, diciamo così, quelli che disprezzano le regole, che non sanno stare nella società, insomma, persone che non sono allineate, diciamo così, a un contesto di vita sociale adeguato, sono persone eccessivamente trasgressive, che vivono un po' i margini, tra virgolette, della società. Ecco, tutta un'altra... questa plettora di persone sono tutte persone che anche queste te devi togliere dei piedi. Te devi togliere dei piedi perché rischiano di trascinarti. Persone che hanno degli eccessi, che bevono, ad esempio, che usano sostanze. Quando trovi un etilista, mandala a stendere, perché... o un tossico, diciamo così, mandala a stendere, perché molte persone che si agganciano su... donne che si agganciano su uomini di questo tipo, finiscono loro per cadere nel loro dramma, piuttosto che tirare fuori l'altro. Cioè, Dio ti salverò non funziona. Ognuno si deve salvare da solo. Se non si salva da solo, non c'è... non c'è verso. E il libero arbitro è un po' quello. Cioè, questo è... Poi ci sono le persone bugiarde, ecco, le persone bugiarde, anche qua ci vuole poco capire se una persona è bugiardo o non lo è. Non è che ci vuole molto capirlo. Però, diciamo, le persone bugiarde in realtà non ti danno nulla e... e ti tolgono. Quindi... accontentarsi, tra virgolette, talvolta di una facciata, perché il bugiardo ti fa vedere una facciata perfetta, però poi dentro in realtà ti fa vivere un inferno. Per cui anche questo, toltelo dai piedi, è fondamentale. Poi, ovviamente, un'altra categoria di uomini è il mammone. Il mammone è una tra le categorie più subdole, se vogliamo, perché all'inizio, diciamo, ispira tenerezza, soprattutto nella prima fase. Però, quando tu ti poi vai a scontrare, diciamo così, con la madre, con sua madre, da quel punto di vista lì in poi, non hai più possibilità di venire fuori, perché verrai sempre comparata in modo fallimentare alla madre. Cioè, la madre diventerà il fare illuminante. Lui non potrà, diciamo, ti confronterà in tutto, ti dirà, ma mia mamma fa cos'ha, mia mamma fa così, mia mamma ha detto che, mia mamma vorrebbe questo, mia mamma vorrebbe quello. Quindi la mamma diventa veramente il punto di riferimento. E tu, se ti lasci, come dire, invischiare, diciamo così, in queste situazioni, ce l'hai, quindi mandala a cagare. Poi, ovviamente, non ho accennato alle persone violente. Le persone violente, questo non va neanche detto. Cioè, lo sottolineo giusto per dirlo. Però, se un uomo manifestano a qualunque forma di violenza, non devi prendere in considerazione. Cioè, non devi giustificare, assolutamente, no? Perché, ma anche violenza verbale, anche violenza di diversa natura. Quindi questo è da tenere presente che sono persone che vanno eliminate completamente dalla propria vita, vanno eliminate totalmente dalla propria vita, perché se te le tieni non hai nulla a che fare, cioè non riesci a fare nulla con questa tipologia di persone. Al momento in cui tu hai a che fare con una persona violenta, questa violenza crescerà se la accetti. Quindi mai accettare violenza, ma andargli subito a stendere, ma subito, rapidamente, ma anche brutalmente, proprio. E poi, vabbè, l'ultima categoria è sono le persone estremamente egoiste. In realtà, qua poi dipende dal tipo di rapporto di coppia che uno vuole avere. Cioè, perché, diciamo, se uno vuole avere un rapporto di coppia basato su creare, ad esempio, una famiglia, creare qualcosa, allora è necessario che l'egoismo non ci sia. È necessario, purtroppo, diciamo, per fortuna, non so, plasmare un po' i propri interessi e renderli, diciamo, mediarli con gli interessi degli altri. Se invece uno vuole un rapporto, e quindi l'egoista è quello che invece vuole che tu ti immedi, che l'altra persona si immedia sui suoi e lui se ne fotte, diciamo così. Questo è l'egoismo. Se invece uno gestisce una relazione di coppia in cui gestisce una relazione di coppia in cui non ci sono problemi, allora la cosa è diversa. Allora la cosa è diversa perché gestendo una relazione di coppia in cui ognuno si fa gli affari propri, diciamo, questo non genera nessun tipo di problema. È giusto così. È giusto così e le persone possono andare avanti anche possono andare avanti anche nel tempo per tempi anche molto lunghi senza generare nessun tipo di problema. Però ognuno entrambi devono volere esattamente la stessa cosa perché se non vogliono esattamente la stessa cosa non riescono a cavare un ragno dal buco insomma questo è fondamentale. Bene, per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo mi raccomando gli appuntamenti gli appuntamenti sono Milano domenica primo marzo 9.30 19 autostima e seduzione in amore e al lavoro e poi Torino venerdì 6 marzo ore 20.45 elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che merita il riferimento è 333 15 11 703 bene ti ricordo che puoi abbonare al canale Massimo Terramasco e abbonare al canale Massimo Terramasco ti porterà degli enormi benefici per la tua crescita personale e invece puoi abbonare al canale Felicità Benessere per avere diciamo visibilità durante le live per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao ciao